Abbiamo firmato tutto, quindi adesso è tutto a posto. Adesso lo sappiamo, il ritiro con la Salernitana ti aspetta questa nuova avventura in Serie A. Come stanno andando questi primi giorni? Cosa ti aspetta? No, sensazioni molto positive, sia dai compagni che dallo staff. Abbiamo bisogno, abbiamo in mente, di fare un gran campionato, quindi l'obiettivo è la salvezza e contiamo di riuscirci. Poi speri di tornare all'Inter per fare bene qui all'Inter? Sicuramente, ho fatto tutto il settore giovanile, sono interista, quindi l'obiettivo è quello. Lorenzo, che clima hai trovato da Piano Gentile, visto che ti si è allenato con loro per qualche giorno? Ho trovato un clima ottimo, ho fatto solo qualche allenamento, però un clima sereno, un clima di gente che vuole sempre lavorare e vogliono portare a casa lo scudetto, io lo auguro. Con i voli, invece, questi primi giorni, un nuovo allenatore, come ti stai trovando? Bene, il mister è un gran lavoratore, un gran motivatore, quindi sono convinto che posso far bene a Salerno. Grazie.